Quando uno entra in una tempesta, non sa neanche se riesce a uscire vivo da quella tempesta, spera solo di attraversarla e fare in fretta. Quel giorno di mezza estate, era la fine di giugno, quando il direttore generale del RAI mi ha convocato al settimo piano di Viale Mazzini per dirmi che era sua intenzione di chiudere per sempre l'arena e mi proponeva di fare il Varietà, io non ho potuto far altro che uscire dal suo studio, sbattere la porta e andarmene via. E mentre me ne andavo, conscio che proprio quello sbattere la porta sarebbe stato chiudersi tante opportunità, ho sceso le scale e mentre le scendevo ho riavvolto nella mia memoria, nei miei momenti, di tutto quello che ho vissuto in quei 27 anni passati all'interno della mia azienda, l'azienda che amavo. Ho incontrato in quegli attimi i volti di tante persone, quelle che magari voi non conoscete, quelle che compaiono nei titoli di coda ma che fanno grande la nostra azienda. Poi ho pensato agli amici, ne cito due, e voi capite perché non cito gli altri, Lamberto Sposini e Fabrizio Frizi. Ho pensato anche, per paradosso, quando ragazzo salivo quelle scale che invece stavo scendendo. Ero giovane, avevo tanti sogni e Giovanni Minoli mi permise di realizzare quel sogno, di entrare nella RAI. Ecco perché io dirò sempre grazie all'azienda che continuo a amare e amerò per sempre. Grazie perché mi ha dato tante possibilità. Mi ha fatto però una cosa più grande. Io ero entrato ragazzo, sono uscito da quell'azienda uomo, ma sono uscito giornalista. Giornalista. Vorrei che fosse chiaro. Forse c'era qualcuno che non l'aveva capito. Quando scendevo sempre quelle scale ho pensato anche a mio padre. Mio padre mi ha detto una cosa, mi ha insegnato una cosa. Non perdere mai la dignità. Ma ho pensato anche che se io avessi accettato di fare varietà, non solo avrei tradito me stesso, ma avrei tradito anche voi che in tutti questi anni siete stati gli unici padroni dell'arena. Quelli veri, 4 milioni di persone. Io non so se sono uscito da questa tempesta, perché le lacrime che ho versato durante la conferenza stampa mi fanno capire che questa ferita è lunga. Però siccome credo, io sono convinto di una cosa, che in fondo al tunnel c'è sempre una luce e si arriva in un mondo migliore.